Tutto in un'ora, tutto in un orale. L'esame di maturità al tempo dell'emergenza Covid-19 si gioca in 60 minuti di colloquio davanti alla commissione. Prima l'esposizione della propria tesina, poi l'interrogazione sulle materie di studio, fermo restando il bagaglio del curriculum di 5 anni, quest'anno più pesante che in passato. C'è sicuramente tensione, ma sana tensione da prestazione e da conclusione di un percorso che è stato importantissimo, che mi ha insegnato soprattutto come stare al mondo e come interagire con le persone, come rapportarmi con caratteri diversi. L'aria è certamente insolita, quasi rarefatta, niente capannelli di studenti, si può entrare a scuola solo allo scoccare del proprio turno, rigorose le regole con cui sono stati predisposti spazi interni ed aule d'esame, ma in un clima comunque sereno. Abbiamo attrezzato le aule in maniera che ci possa essere un distanziamento effettivo di almeno due metri, abbiamo disposto dei dispenser per le soluzioni idroalcoliche in giro per la scuola e in ogni aula, abbiamo predisposto anche i computer coperti da una pellicola trasparente e abbiamo dato anche delle indicazioni molto precise sia ai commissari, al presidente, sia ai candidati quando arrivano qui in maniera che abbiano una dichiarazione, un'autocertificazione di essere in condizioni fisiche adeguate. Sicuramente avrei preferito un anno scolastico diverso, ma credo che si sia fatto il possibile. Inevitabilmente lo sguardo di tutti insegnanti e studenti è proiettato a quanto succederà dopo questa estate, al termine di quest'anno impensabile, che ha lasciato molte incertezze ma anche alcune sfide da cogliere. È un po' una prova generale, è un po' strano in effetti vedere la scuola così, diciamo, poco popolata, però è già un bel segnale di ripresa, questo è un po' un banco di prova anche in vista di settembre, quando dovremo ricominciare scuola e effettivamente cercheremo anche di capire quali sono gli aspetti che hanno funzionato alla fine di questa esperienza e quali quelli su cui intervenire. E alla domanda, hai paura del Covid? No, non mi fa paura il Covid in sé, mi fa paura quello che potrà causare nella nostra società, i cambiamenti che potrà determinare, è sicuramente una cosa che ha complicato un po' le prospettive di futuro. Forza ragazzi, passerà anche questa, in fondo essere maturi e anche sapere affrontare e superare le difficoltà e guardare con fiducia al domani.